La visita del primo ministro turco Ahmed Davugotlu a Erbil nel Kurdistan iracheno ha sbloccato due dossier di rilievo, l'esportazione di petrolio verso la Turchia e l'assistenza di Ankara ai kurdi d'Iraq nella lotta contro l'ISIL. Incontrando i giornalisti, il leader kurdo Mustafa Barzani ha annunciato il via libera alla fornitura di petrolio verso la Turchia. Il governo regionale del Kurdistan invierà 150.000 barilli di petrolio di Kirkuk attraverso l'oleodotto verso la Turchia per l'esportazione nella regione. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di contrasto al califato dell'ISIL. La Turchia darà ogni supporto necessario per mettere in sicurezza la regione kurda. Si tratta di una scelta storica, umanitaria e strategica. Abbiamo discusso anche di addestramenti militari. Il nostro aiuto permetterà di accrescere i livelli di sicurezza piuttosto rapidamente. Il governo turco finora non è intervenuto a sostegno dei combattenti anti-ISIL di Kobane in Siria, considerati vicini al PKK, che per Ankara è una formazione terrorista. La promessa di aiuto ai kurdi d'Iraq ora potrebbe segnare l'inizio di un cambiamento di strategia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.